Ciao a tutti da Rosa dal centro del cartomante europeo vi volevo ricordare carissime amiche che anche in questi giorni di festa siamo al vostro fianco alla vostra disposizione quindi potete chiamarci colgo l'occasione anche di augurare a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo tanti auguri da Rosa